Nel caso di lesione del legamento crociato anteriore, la cosa più corretta da fare è quella di intervenire immediatamente, soprattutto in pazienti sportivi. L'intervento immediato permette di accelerare molto i tempi di recupero, di risparmiare tempo nel recupero post-operatorio e permette inoltre di valutare bene al momento dell'atto operatorio tutte le lesioni dovute al trauma e di poter intervenire su di esse nel momento migliore quando questi tessuti hanno la massima capacità di guarigione. Questo è importante soprattutto per le strutture meniscali e legamentose che possono essere riparate, suturate al momento dell'intervento.